Altro motivo per cui io utilizzo soprattutto il crescino coi rivetti è che se devo suonare una ballad, jazz o pop che sia, l'attacco della nota di entrambi è comunque quella che mi serve per determinare un suono che abbia un picco molto forte ma che poi sparisce subito lasciando lo spazio al sound delle spazzole. Grazie a tutti. Naturalmente se usate le spazzole che sia una ballad jazz o una ballad pop utilizzate la spazzola non solo dalla parte dei fili se volete dare una botta di crash usate il manico quindi suonate il piatto di taglio così si crea un suono così se ne crea un altro molto più strong, più potente io le spazzole le massacro proprio perché le uso spesso di taglio e allora poi a lungo andare tutta la gomma si lacera così è non è che usiamo le spazzole solo per essere delicati dobbiamo anche saper suonare molto forte con le spazzole quando viene richiesto altro effetto che si usa con le spazzole è l'effetto mallets quindi suonandole al contrario per fare per esempio quell'effetto di onda naturalmente il rullo in modalità onda sonora non lo faccio coi fili perché per quanto io possa fare un rullo molto veloce l'effetto è quello di sentire invece l'effetto mallets con le spazzole deve essere e quindi lo fai con la parte morbida naturalmente cosa succede? che in questo caso l'effetto mallets a mio avviso viene meglio con un ride un po' morbido perché? perché quest'onda sonora può essere allungata e mantenuta più a lungo un piatto così piccolo farà un bellissimo effetto iniziale ma poi arriva subito al dunque e si spegne altrettanto in fretta idem con questo vi faccio un esempio pratico usando questo ride è troppo duro quindi non ci serve per questa occasione scusate uso un ride più morbido sentite l'effetto mallets su i tre piatti anzi su quattro piatti perché uso spesso anche la yet è il un bel video di spazzo in quanto riguarda i tre piatti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con un minimo di accortezza sulla scelta timbrica e sull'utilizzo che dovete farne. Concludo dicendo che, come ho detto all'inizio di tutto questo racconto sui piatti, non mi interessa andare in un negozio e comprare il piatto con scritto jazz ride. Ah beh, allora se è jazz ride è perfetto per il jazz. Magari sarà perfetto per il jazz genericamente, ma poi lo uso e sento che ha un suono che non mi piace. Quindi voglio dire, bendatevi gli occhi, provate un ride se sentite che vi piace. Ah, è quello. Se poi c'è scritto ride heavy metal, fregatevene. C'è un'ultima cosa da considerare, purtroppo, che i piatti belli, costosi sicuramente miglioreranno col tempo e vi dureranno tre vite. Tuttavia, il piatto bello nasce con un suono e nel tempo cambia, perché tutte le molecole, delle varie essenze minerali, chimiche, metalliche, si amalgamano suonando il piatto. A questa caratteristica, purtroppo, non possiamo farci niente, perché noi proviamo un piatto in negozio, in quell'ambiente, quel piatto lì, ci piace perché sentiamo che ha la pasta giusta, ha le frequenze giuste, poi lo portiamo a casa e in base alla stanza suona un po' diverso. Così come questo piatto qui, comprato adesso, fra due anni suonerà in maniera diversa. E' chiaro che il timbro di partenza è quello, non è che un Costantinopoli bounce si trasforma in un custom, chiaramente no. Questo è un piatto gnocco e questo è un piatto più scuro e più morbido. L'essenza del piatto rimane uguale, ma migliora col tempo. Il paragone è un po' azzardato, ma potrei trovare un'analogia con gli strumenti di liuteria. Il legno migliora con le vibrazioni, per cui un violino comprato oggi, fra cinque anni, suonerà dieci volte meglio. Lo stesso principio vale per il piatto, con una percentuale di rischio che fra cinque anni, quel piatto lì suona sì, meravigliosamente, però si è allontanato un po' dal suono iniziale, grazie al quale io avevo scelto quel piatto. E d'altra parte, questo è. E d'altra parte, questo è un po' azzardato.